Benvenuti in questo nuovo video tutorial nel quale vedremo come abilitare il nostro account chiocciolaliceosansepolcro.eu direttamente su smartphone. Questo tutorial quindi serve essenzialmente ad abilitare il nostro telefono a ricevere le notifiche del nostro account della scuola o all'inverso per inviare delle mail da questo account. Perché? Risulta comodo attivarlo perché in questa maniera non siamo costretti a controllare le notifiche direttamente dal computer ma abbiamo una notifica immediata, per esempio alla ricezione di una mail, alla ricezione di un commento su Classroom, alla condivisione di un documento in Drive, il tutto direttamente da smartphone senza la necessità di controllarlo continuamente da computer. Allora, il primo passaggio è aprire l'applicativo Gmail. È ormai in tutti gli smartphone ed è tra l'altro di quelle applicazioni che perlomeno nel mondo Android non possono nemmeno essere rimosse. Nell'applicativo Gmail noi dobbiamo cliccare, dopo averla aperta all'app, in Aggiungi account. Molto probabilmente nel nostro smartphone già c'è un account Gmail che è quello nostro personale. E lo individuiamo perché dopo la chiocciola c'è scritto gmail.com. Mentre invece l'account G Suite, quello cioè della scuola, vi ricordo che è chiocciolaliceosansepolcro.eu. Quindi apriamo l'app Gmail. Nel mondo Android e nel mondo iPhone è essenzialmente identica. Andiamo in alto a destra dove ci sono tre lineette dove io sto spostando qui il mouse. Apriamo un menu a tendina e clicchiamo, come state vedendo qui, in Aggiungi account. A quel punto mettiamo cognome, punto, nome, chiocciola, liceosansepolcro.eu e la relativa password. Se abbiamo un iPhone abbiamo finito qui. Perché l'iPhone non prevede tutta una serie di misure di sicurezza suppletive che invece vedremo in Android. A quel punto con l'iPhone siamo subito abilitati alla sincronizzazione dei messaggi. Mentre invece per quanto riguarda il mondo Android c'è un passaggio in più. Dopo aver creato dentro l'app Gmail il account, il sistema ci chiede di installare quest'app che si chiama Google Device Policies. Che cos'è quest'app? Consideriamo che G Suite non nasce nel mondo educational, ma nasce nel mondo business, cioè nel mondo delle aziende. E in un'azienda smarrire uno smartphone significa potenzialmente smarrire dei segreti industriali anche di una grande importanza e delicatezza. Quando c'è quest'app installata, Device Policies, un amministratore da remoto può cancellare, in caso di furto del telefono di un dipendente, tutti i dati relativamente a un dominio. Nel nostro caso il dominio è liceosansepolcro.eu. Quindi G Suite, che è ovviamente di proprietà di Google, costringe gli utenti Android a questa misura di sicurezza ulteriore. Potrebbe la piattaforma configurarsi così anche per iPhone, ma ho preferito evitare questa trafila per gli utenti iOS. Quindi l'utente iPhone deve necessariamente scaricare questa applicazione, installarla e abilitarla. Questo passaggio in Android non è evitabile, quindi questo passaggio va necessariamente fatto. L'invito ad installarla normalmente automatico, se così non fosse per i dispositivi più vecchi, occorre andare in Google Play e cercare Android App Device Policies. Una volta fatto questo, mi arriva subito una mail nella quale mi si dice che il dispositivo è in attesa che l'amministrazione, quindi l'amministratore, cioè io, lo abiliti. A quel punto io abilito il dispositivo a ricevere queste informazioni e il dispositivo da quel momento potrà sincronizzarsi. Questa schermata serve a capire che da quel momento nel nostro telefono noi abbiamo due account Gmail, dove, qui vedete un esempio, dove uno è quello nostro personale che termina per gmail.com, l'altro sarà invece l'account della scuola, quindi cognome, punto nome, chiocciolaliciosansepolcro.eu. Una volta che apriamo l'app Gmail, come state vedendo qui, per passare, tecnicamente per fare lo switch da un account a un altro, sarà sufficiente tirare giù il menu a tendina e scegliere l'account che preferiamo. In ogni caso, l'arrivo delle mail dell'account della scuola non interferisce con l'arrivo delle mail dell'account privato. Ecco, questo è il supporto tecnico, come al solito per qualunque tipo di difficoltà. Potete scrivere a me, onori.emiliano, chiocciolaliciosansepolcro.eu, oppure alle colleghe. Ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie.